Accedi al pannello di controllo dall'indirizzo admin.aruba.it. Inserisci lo username chiocciola aruba.it, la password e il codice di controllo mostrato nell'immagine. Vai su Accedi. Solo se lo username aruba.it è associato a più domini, visualizzerai questa schermata dove inserire il dominio che vuoi gestire. Effettuato l'accesso al pannello dal menu di sinistra, seleziona la voce di menu Hosting Windows oppure Hosting Linux, in base alla tipologia di hosting acquistato o che vuoi gestire, e dal sottomenu clicca su Schedule Task. Il tool permette di eseguire varie operazioni, tra cui creare un nuovo task, modificare un task esistente oppure eliminarne uno. Il pulsante Vedi log ti consente di visualizzare i log di errore relativi ad uno specifico task, nel caso siano presenti. Utilizzando il pulsante Cancella log, sarà possibile eliminare i log error relativi ad un singolo task. Ed infine, il pulsante Cancella tutti i log, posizionato sotto la lista dei task presenti, consente di eliminare tutti i log di errore.